Un saluto agli amici di Mitico Snake, tranquilli ragazzi, non si parla di cuba di Rubik né tantomeno della rubrica del Mitico Rubik, ma si ritorna a parlare del tema principale di questo canale, ovvero la tecnologia. Allora, se vi ricordate, qualche domenica fa vi ho portato un unboxing là dove avevo acquistato alcuni accessori per la mia Nikon Coolpix B500, ovvero la fotocamera che mi sta riprendendo in questo momento. E sono alcuni accessori che sicuramente qualcuno di voi si ricorderà, per chi mi segue su questo canale, vi avevo portato la recensione di questa fotocamera, il link lo trovate qua in alto a destra e nelle schede alla fine di questo video, nella descrizione, insomma un po' dappertutto, si ricorderà sicuramente che con sé questa fotocamera porta alcune pecche che grazie a questi accessori quasi quasi vanno a scomparire. Però le chiacchiere stanno a zero, quindi direi di mostrarvi questi accessori subito dopo la sigla. Allora, partiamo da uno dei primi accessori che voglio mostrarvi. Allora, perché si ricorda la video recensione per chi l'ha vista, si ricorderà sicuramente che la Nikon Coolpix B500 ha la pecca di non avere la batteria proprietaria, quindi a suo interno dobbiamo inserire quattro batterie in formato AA, detta in termini stretti, quattro batterie in formato stilo, che quando stavamo registrando un video avevamo il pensiero che quelle batterie, oddio, adesso si scaricano, ma grazie a questo cavetto EH65 non più. Non più perché questo cavetto porta con sé un'estremità USB standard che a tempo stesso collegato ad un adattatore da parete, abbiamo la possibilità di tenere lì la fotocamera accesa tutto il tempo che vogliamo e registrare fino a che non si esaurisca la microSD al suo interno. Ma questo cavetto EH65 non fa solo questa cosa, ma possiamo utilizzarlo grazie ad un powerbank, perché se noi metti in caso che noi siamo all'esterno, dobbiamo girare un video, dobbiamo scattare delle foto e non abbiamo abbastanza carica residua nelle batterie a stilo, grazie ad un powerbank e grazie a questo cavetto EH65 noi abbiamo la possibilità di registrare tutti i nostri video e di scattare tutte le nostre foto fino a quando non si esaurisce il powerbank, poi ovviamente se si è esaurito ritornano in campo le batterie stilo. Se vi ricordate la fotocamera porta con sé un altro tipo di pecca, ovvero quella di non avere un display orientabile a 360 gradi, ma grazie a questo display esterno da 10 pollici questo problema è sparito. E' sparito perché questo display mi fa da display esterno per la fotocamera, però per collegare questo display ho bisogno di un ulteriore cavetto, un ulteriore cavetto che porta con sé un'estremità RCA, RCA che grazie a questo cavetto possiamo collegare questo display esterno e volendolo possiamo collegare anche ad un'altra punta esterna tipo un televisore per poter vedere tutto quello che sta inquadrando l'obiettivo in quel momento. Ma questo cavetto RCA porta con sé un'altra funzione, ovvero la funzione da USB. Allora, la funzione USB va un po' a tamponare la rimozione della micro SD card all'interno della fotocamera, perché ogni qua volta che dovevo salvare dei file dalla fotocamera al computer, dovevo stare lì, aprire la fotocamera, togliere la SD, inserirla nel computer e finalmente potevo salvare i miei dati. Ma grazie a questo cavetto che fa sia da AB out per le fonti esterne come tv e display esterni, possiamo salvare i nostri file sul computer, collegarlo in USB e trasferire tutti i file. Sì, è bello, è un pochino più lento rispetto ad una micro SD card di classe 10, ma finalmente non dobbiamo più preoccuparci di rimuovere la micro SD all'interno della fotocamera e farla stare dove sta. Ma dato che quando si registrano video, visto che la mia Nikon Coolpix B500 è stata affiancata ad un display da 10 pollici, tutti e due su tre piedi non ci stavano, mi sono dovuto attrezzare con questo supporto doppio. Questo supporto doppio che mi consente di collegare a tempo stesso sia la fotocamera e sia il display e poter iniziare a registrare finalmente i miei video. Un altro degli accessori, ma non meno importante, è il cavetto HDMI mini HDMI. E sì, perché dovete sapere che questa Nikon Coolpix B500 porta anche la connessione HDMI. Questo cavetto HDMI purtroppo ha la sola funzione, se collegato ad un tv o un monitor esterno, di visualizzare tutti i contenuti multimediali presenti nella fotocamera, ma non ci dà la possibilità di vedere ciò che sta inquadrando l'obiettivo in quel momento. Però, devo dire che se vogliamo vedere i nostri contenuti catturati dalla fotocamera in formato un pochino più grande, dobbiamo avvalerci di questo cavetto HDMI mini HDMI. Insomma, io ho fatto, beh, devo dire, un acquisto abbastanza succoso in termini di soldi e avrò speso all'incirca 70 euro questi piccoli accessori, però devo dire che vanno ad eliminare quelle che sono attualmente le pecche di questa Nikon Coolpix B500. Quindi, se anche voi avete una Nikon Coolpix B500, non dovete fare altro che andare qua in basso nella descrizione, dove vi lascio i link di tutti questi accessori, per poterli comprare. Ovviamente, se volete avere tutte le vostre informazioni, i link di riferimento li trovate qua in basso nella descrizione. Allora, come avete potuto vedere, io ho fatto il mio piccolissimo upgrade per quanto riguarda l'attrezzatura fotografica. Adesso, sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti. Vi raccomando, fatemi sapere tutto, ditemi quello che volete, in modo da aprire una discussione qui nei commenti. E qualora questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate anche tanti bei pollicioni in su che aiutano sempre il canale. E adesso ecco che partono le animazioni qua in basso. Già le sapete, sono le animazioni che vi ricordano di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video perché aiutano molto il canale. Già lo sapete, sono presente anche su Instagram, chioccia la miticosnake, ve lo ricorda l'animazione, e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao! Ciao!